eccoci qua su cyberpunk 2077 sulla versione upgrade data ieri per appunto ps5 sono su ps5 e un attimo provare le nuove aggiunte sicuramente è stato aggiunto il supporto dual sense per quanto riguarda ps5 ovvero i grilletti adattivi che devo ancora provare poi è stato aggiunto la modalità ray tracing quella che proverò principalmente oppure modalità prestazioni che è in 60 fps e 4k dinamico invece abbiamo il ray tracing che invece gira a 30 fps così a 4k 30 fps si vede che lagga perché si fa 30 fps si sentono però graficamente si vedeva il riflessio grilletti adattivi sono bellissimi sono durissimi a seconda dell'auto che cambiate sono più mogli più duri tipo su quest'auto praticamente devo sfondare il controller graficamente niente da dire è uno spettacolo devo dire in macchina i 30 fps non si sentono neanche cioè vado molto bene facciamo una missioncina veloce io ho finito il gioco eh voglio fare un attimo una missioncina con nuovi contratti scusa giuro che non volevo investire ah no aspetta volevo provare anche un'altra roba stiamo dicendo volevo provare graficamente assurdo adesso poi mandiamo avanti il tempo e lo guardiamo di notte comunque volevo mi ricordo che nella versione l'altra io non mi ricordo più i comandi quando tu sparavi alla gente e li correvi dietro loro desponavano vediamo se è ancora così li corro dietro e vediamo se le sponano mettiamone un altro attenzione parlano pure no si si è stato migliorato un botto adesso cambiano anche strade non desponavano buono ce l'hanno fatto mi faccio killare eh madonna scusa allora direi di provare graficamente com'è modalità prestazioni poi andiamo di notte non impostazioni video prestazioni ah si allora in modalità prestazioni è come prima dell'update cioè è gioco ps4 giocato su ps5 cioè molto bello eh però cacchio in modalità grafica si sente la differenza beh a 60 fps sicuramente molto 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 più fluido però ma cioè devo dire che anche in modalità prestazioni è bellissimo adesso mi avvicino un attimo la città così guardiamo di notte ok allora adesso mettiamo in modalità mettiamo allora in modalità ray tracing e guardate che differenza comunque mettiamo com'è che ci faceva aumentare il tempo così ah è pure è cambiato pure cosa del tempo prima non era così beh mettiamo notte tipo mezzanotte si è cambiato ma molto più bello che succede? eh così è in modalità grafica di notte cioè e sta cosa gira su una console poi youtube abbasserà un botto la qualità eh ne sono sicuro ma bellissimo guardate qua tutti i riflessi ok e vediamo ora invece in modalità eh in modalità prestazioni cosa cambia? si allora in modalità prestazioni si riflettono meno le ombre delle case sopra e si vede meno tipo eh la foschia della luce diciamo si beh cambia nettamente eh molto però diciamo che non si può dire che è brutto mi sta facendo venire voglia di rigiocarmi tutto a cyberpunk eh è bellissimo ci arriviamo un po'? ah vediamo un po' andando un po' forte gli fps a 30 insomma facendo un po' di casino tipo investendo un po' di gente eh si vedete qua quando investo un po' di gente si bloccheggia un po' eh però c'è ragazzi questo tempo scappo dalla cula scusate non volevo vabbè e volevo vedere anche cosa hanno messo a parte il graficone hanno messo i nuovi appartamenti di V dove ne ho cercato gli appartamenti all'opzione ah ok in pratica ci sono i nuovi appartamenti che puoi comprare ah si questa roba adesso la proviamo in pratica da qua non lo so tu vai nel tuo appartamento tu vai nel tuo appartamento che è? che è? non mi ricordo niente aspettate ok ma andiamo all'appartamento e in teoria quando tu vai allo specchio puoi cambiare il personaggio diciamo andiamo a provare sta roba bene il guasto relic proprio ora eh ok ragazzi entriamo nell'appartamento in modalità graficona donatemi non gioco con cyberpunk da una vita wow ah così entro e mi date già un'arma così overpowered ma grazie cosa succede qua uh posso mangiare la pizza oh no che figata ragazzi questo appartamento ah ecco qua allora qua c'è tipo guarda Bushido collezione bene 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 ok hanno aggiunto delle nuove robe la collezione di Bushido in formato BD i primi tre sono roba della collezionismo che cosa sto vedendo qua qua cosa c'è a qualcuno piace bagnarsi i piedi ah ma è la casa di ma che succede qua stiamo sbloccando missioni qua cos'è ok chi l'avrebbe detto posso fare quella roba no devo trovare il bagno dov'è il bagno qua guardate ragazzi non trovo il bagno uh cosa ho scolto uh cosa ho raccolto lo vedo è questa pistoluccia comunque st'arma ragazzi è overpower le mie armi più forti fanno duecento di danno io comunque anche con duecento di danno c'è sciotto la gente questa qua fa due ottocento quaranta vacca vacca comunque non trovo il bagno non capisco due magari qua eccolo qua posso farmi la doccia prendi la doccia se ne posso farmi la doccia non credo si potesse fare prima la doccia però potrei sbagliarmi non morire ci siamo ok eccoci qua lo specchio e vediamo se si può fare quella roba che dicevamo esatto modifica aspetto quanto so figo sì comunque possiamo cambiare aspetto figo figo conferma outfit sempre migliori beh beccati che outfit bene per ultima cosa guardiamo un attimo l'appartamento con l'altra modalità grafica e poi ci salutiamo sbagliato ecco così e con l'altra modalità grafica molto più fluido ma cosa c'è poi ma poi le nuove robe che hanno aggiunto me le guarderò con calma beccatevi la tastiera direi che abbiamo finito ah qua c'è pure un'uscita comoda ah c'è pure l'uscita che da direttamente questa è comoda davvero questo era il cyber park per la ps5 ci vediamo domani con horizon forbidden west bella un'uscita